Picciotti di Sicilia tutto tondo, allora attenzione a questo video perché vi portiamo a conoscere un'altra eccellenza siciliana Siamo a Trapani, siamo al mercato del pesce e qui il pesce viene venduto direttamente con le barchette nel mare Guardate che bello Picciotti, arriva qua, belle loro con le barchette, poi lo vendono, tutto pesce freschissimo Freschissimo che ancora si muove, allora quindi Picciotti, uno, due, tre, andiamo Guardate! Ma che c'è? Che c'è? Mamma mia! Ma enorme! Quanto pesa? 6 kg, 7 kg Ah Morene, mamma mia, che brutte! Ma buone da me! Sono troppo brutte! E' bello, le gamberonze! Che belle queste! Questi sono bellissimi! Buonissime! Questo? Il suo polpo, polipo e gamberi Quanto vengono il polipo? 16 Quanto vengono il polipo? 16 kg, e quant'ha questo? E' 2,100 kg E' gigante! E' spettacolare! Allora Picciotti, adesso entriamo dentro il mercato del pesce, questo è quello coperto E qua il pesce è tutto fresco, vedrete pure il pesce che si muove ancora Mamma mia, non vedo l'ora! Entriamo! Eccoci all'interno Picciotti, guardate che meraviglia! Ah, il pesce è pulito in diretta, guardate! Bello! Bello! Bello, 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 bello! Allora 10 euro, 5 euro, 20 euro vero? Non ha spine! la stessa famiglia guardate, pulite, pronte allora picciotti ovviamente chi ama il pesce come me qua in paradiso perché c'è il pesce che ancora si muove freschissimo buongiorno scusatemi, se voi lavorate noi riprendiamo un po' che ci portiamo su un bello ricordo di questo pesce freschissimo ok, che ne tra la mare amoni con la mare bella e sa vedi i camberetti già sgusciati quando arriva pronte o fai guarda il bel tono questo è pesce spada pesce spada guarda, questo si muove quando uno dice pesce freschissimo ancora si muove male che sta soffrendo e amore, c'è il tono che è contento di essere qui sono vivi ancora vivi, guarda se stai muovendo attento che ti pizzica come pizzica? vero? allora gamberoni i nostri preferiti gamberi, gambero grosso di mazzara qui c'è tutto picciotti non potete sbagliare ma anche i pesci freschi sì, qualsiasi cosa compra è freschissimo anche perché si muove quindi più fresco di così veramente ora andiamo accanto magari in supermercato mi metto i spiaggia e me la riusco grazie a tutti